Ancora andando a scuola ho bisogno di avere tempo per sbagarmi studiando anche il pomeriggio e questa nuova tecnica di allenamento quindi utilizzando anche il cardiofrequenzimetro mi permette di controllare il mio allenamento qualitativamente e quantitativamente e quindi riesco a mantenere in controllo i vari parametri però anche divertendomi quindi mettendomi in gioco, vedendo in quanto tempo, quante serie riesco a fare e quanto riesco magari a bruciare e a mantenere l'avancione quindi in questo periodo e poi sull'app che appunto monitora il tuo allenamento ci sono anche delle classifiche quindi tu puoi competere con le altre persone che si allenano in questa palestra che si allenano a colori e quindi anche un modo per mettersi in gioco e per diciamo anche competere con le altre persone una piccola sfida nuova tutti i giorni esatto